Ettore Baratelli, cinquantenne, uno dei titolari dell'omonimo gruppo imprenditoriale è il nuovo presidente provinciale dell'Associazione Costruttori dell'Aquila un'elezione decisa al fulmico tone 108 voti contro i 102 raccolti dall'altro pretendente alla carica di presidente l'imprenditore Stefano Cipriani sugli obiettivi e le sfide dell'Associazione abbiamo ascoltato il neopresidente Sarà sicuramente e doverosamente condiviso con il nuovo consiglio che si inserirà a brevissimo con il quale dovremmo predisporre il programma che poi sono le criticità di tutti i giorni del mondo delle imprese le problematiche della ricostruzione ma non solo grande attenzione ai territori dell'Aquila sul Mono Avezzano in alcune parti del nostro vasto territorio infatti la ricostruzione non ha portato i benefici che si sperava e le imprese lo hanno rappresentato durante questa campagna elettorale su questo apriremo una profonda riflessione ogni presidente porta avanti delle idee, dei programmi frattale è stato il presidente dell'emergenza, post terremoto di criticità che oggi per fortuna non ci sono, sono state risolte e ha saputo risolverle con grande autorevolezza e lealtà io devo raccogliere un'eredità e un percorso dove individueremo le vie di azione per risolvere i problemi che ci sono tutti i giorni e sicuramente le condividerò con tutti i colleghi che sono stati eletti Lancia inoltre ha tenuto a precisare il presidente Baratelli non è affatto divisa come potrebbe far pensare l'esito finale della votazione in realtà nessuna spaccatura il segnale che invece noi abbiamo ravvisato è che entrambi i candidati avevano pari gradimento da tutto il territorio ed ecco il motivo per il quale abbiamo in realtà vinto tutte e due non è che chi vince sta fuori dall'associazione assolutamente noi siamo tutti colleghi, viviamo ogni giorno purtroppo i drammi per portare lavoro alle nostre aziende per risolvere i problemi e Lancia è la casa di tutti quanti, non solo di chi vince non solo di chi vince